Musica Essere a Soeria 2018 Essere a Soeria compie quest'anno 30 anni Con questa età siamo sicuri che è la manifestazione più longeva della Calabria Questa sera sarà con noi l'onorevole Vittorio Sgarbi Nell'ambito della Summer School, nell'ambito dell'Università d'Estate Che ha raggiunto il 14esimo anno consecutivo Si parlerà di cultura La Summer School di Soveria ha per titolo quest'anno Come andremo ad incominciare È un tema sempre a sfondo socio-politico Stasera inizierà Vittorio Sgarbi Giorno 13 ci sarà il magistrato Nicola Gratteri Che parlerà di giustizia E il 29 agosto ci sarà il commissario dell'autorità Per le garanzie delle comunicazioni Il professor Mario Morcellini Il corso è diretto naturalmente da Mario Caligiuri E da Florindo Rubettino E sta arrivando molta gente Stiamo per incominciare E quindi io ci devo volentieri la parola Perché stiamo attendendo il professor Sgarbi E lo andremo a ricevere Grazie 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 Grazie